Come state? Bellissimi! Come state? Come state? Dov'è chi è? Lieser? Come state? Come state? Tutto bene? Mi piacciono i pezzi belli? Sì, questo, quindi... Ciao, Saretta. Ciao, Deflex, Pierre... Bravissimo, Marco! Ramonza, ciao! Qui c'è la rossa e gli do un bacino sul collo. Che che l'ha capita questa canzone? Non ti sto affrontando, scusa, Morelli. Ti è così bravo? Dai, io non ho sentito, però che fai... È troppo tardi, non la ripcanto qualcun'altra. Non la ripcanto. Ripcantala, dai! Canto... Tiridì, 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 circa di pene... Ma l'ultimo sub! Adesso non sono più io, niente, Corno. The Man of 28... Io ancora ti vedo, Marco, secondo me è scelto. Quanti mesi, The Man of 28, otto mesi, la tre mesi... Ma... Io, io, The Mark 90T, io, io! Giochi 89... Ciao, Lector! Ponzi, Papa Pumbo, Dark Rider e basta. Ciao, Davide, però non sei venuto al Brianza Comics, quindi mi fai schifo. Tre mesi basta, Marco, sei proprio uno stronto. No, Ramonza! Senti che hai notte che è nella mia stessa barca! Cosa? La Ramonza non è sub, no? No, come è andata una volta? Va bene così. Lei è nel nostro porto. Ma adesso è diventata stronza. Non avevo voglia, ma sentilo, che sfaticato. Ramonza, sei diventata stronza. Io come si fass... Non la live solo chat. Allora, intanto apro... niente, perché non so dove li cona. Ehi! 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 Che carlo, Corne, che merda, che faffangulo! Ho riaperto BS, e crasherà? Ma... Chi lo sa... Basta che non fai nulla, chiudi. Esatto. Adesso sei un termostronzone, corne guarda guarda come i cosi marcellin grazie marcellin tanto invito un attimo non invitare nessuno non ce la faccio in tempo io non gioco amici ma hai lasciato il posto io ma non posso se mi facessero vedere obs magari potrei vedere se vedesse non vedo un cazzo io marco non vedi niente adesso tabbo e sistemo eccoci qua tanto più basso marco però come fai schifo marco fai schifo non sei buono marco ma che bello che io sono completamente sta caricando da sei giorni ok ciao ale tutte e due nico a nove mesi grazie sempre in mente il remington aspetta aspetta piano piano dentro cosa faccio adesso ah ma non lo so non sapevo pensavo fosse corvo e cosa vuol dire questo vuol sicuro non mi risposta è giocato corvo ma anche se mi sta dando incaricamenti a giocasse moro no grazie luke sparrow che bellissimo luke sparrow e comunque non lo so moro c'è non ho capito sandro star e ma lo sai sono uno sfaticato e non ho voglia di lavorare di non fare esatto io lo sapevo già di stare sul divano a grattarti esatto poi perché uno si dovrebbe grattare tutto il giorno infatti c'è la fine non rimane più niente e vedi io sono qui a fare inside the web donate da due euro una piccola donazione da un povero povero cristo che domani ha un test d'ingresso all'università ma allora buona fortuna o in culo alla balena ma che bello non ho mai capito come possa essere una cosa positiva essere in culo alla balena mai capito perché allora la lorde in bocca al lupo la so in culo alla balena effettivamente non la so ma io non so neanche quella di in bocca al lupo me la spi in bocca al lupo perché infatti non si dice grazie quando dici in bocca al lupo cioè si dovrebbe dire grazie no crepi si dice no si dovrebbe dire grazie i lupi tengono in bocca i loro piccoli esatto per proteggerli quindi bocca al lupo per come protezione e invece andare nell'orefizio della balena come potrebbe aiutare forse perché stai nel culo della balena e sei protetto infatti si dice speriamo che non caghi esatto esatto vedi morelli questa è la cultura io ho fatto geometra non so io ho fatto il geometra tra l'altro prima che partite il gioco è già partito è già partito io volevo dire volevi dire per chi si è perso la maglietta siccome ci sono state molte richieste la campagna è ripartita da sola finisce tra sei ore finisce tra sei ore quindi se stasera la volete comprare qualcuno di voi che non ha ancora compratto la maglietta può farlo può farlo assegna un solito link che era di prima forse c'è ancora il comando non lo so Provate a fare il comando magliette signori mod grazie vedi corna che bravo il cornetto a niente corpo tu non giochi e dai rinnovare l'attivazione voluto passato il posto per niente vedi allora faccio change ma e io uso napoleone bon no è il pirata lui non è chiaramente napoleone è un po' omosessuale e lo è un po' anche questo è questo invece change bravo ma perché ti fai i tempi di edizione se la prendi adesso arriverà bella che mi sviluppo prima ma comunque finisce ora la cosa quindi in teoria due settimane due settimane ci vogliono più o meno due settimane ma grazie prego hai noto visto che pescali e marco dai ah che bello si sennò c'è la spedizione veloce che arriva meno di una settimana tipo tre giorni però costa 7 euro in più ti costa un po' di più però no ma dovrebbe farcela se pensate per la games week dovrebbe farcela guarda change si no per la games week dovrebbe farcela comunque avete 6 come il mettere dei peli e niente è notte è notta ai corvo da 5 ore dice cordac che palle eh ti sfido a duello eh no invece ingolartenzone 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 non sfido un cane non sfido paugab grazie grazie paugab pautermos 9 mesi di sub un saluto particolare a ierda per la compagnia nell'infinita coda della salamella al brianzaconi io fortunatamente ho fatto il geometra sono andato prima perché giustamente era abbastanza lunga la cosa un salutone guarda c'ho un coniglio nella panza bella la panza eh guarda marco come è forse un coniglio che c'è un altro coniglietto nella panza puoi sfidarmi se vuoi puoi provarci c'è fanpass eh no fanpass contatta 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 al supporto di tspring è già successo ti devono ridare i soldi o comunque ristampartela no te la ristampano adesso che tra l'altro ripartita la campagna ci mettono anche meno forti infatti comunque grazie a x metto grazie mille contattale subito magari grazie male change di calma giustamente otto come il mio culo rotto ahahah volo sono una farfallina eh vai corvo change mi diverto al giro grazie e io sono un coniglio travestito da qualcosa lo sei lo sei delle due come due di picche quando ah no il due non mi piace ma senza le picche le due infame hanno detto di aspettare fino al 7 ma dai ah ah vabbè non l'aspetto fino al 7 5 5 come il sottopalla change schifo schifo bruno ma dai sono cose da fare ne sono cose da fare e niente ghezzar però io a te ti lascio così per evitare di farti sbagliare sulle strizze e io non so che fare amici niente e va a pescare e niente colpo di schiena colpo di schiena si pesca colpo di schiena e niente marco e ho vinto ma che culo ma che culo prima vinta prima vittoria di corvo io vinco sempre anche vitto quello lì è corvo vedi con quei rasta lì esattissimo sono lui paro paro con la barba uguale e la sua foto è quella si 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 sa che corvo ha la stessa quantità di peli in tutto il coro assolutamente si lo chiamavano lupo alberato no vaffanculo te la devono fare fempas cioè non è che un più due subito così mortacci vostre io do un più quattro invece ai note mi vendico per tutto quello che mi ha fatto prima è un pezzo di merda e non ho ancora finito donato perché mi hai dati due due più quattro ma allora è mortacci però allora circondato da stro ah bene che bello il giallo peccato che io non ce l'abbia però allora siete veramente disgraziati voi due di fianco e ti sfido no poi è cambiato tanto ormai ti se ne frega sarà per colpa dell'autobus che ti passa da sotto casa corno ma quelli giallo ce l'ha sentata in hot abbiamo capito chissà chissà ciao wicked lady ciao sere ma si questi si alleano mi temono mi temono la paura la paura fa 90 come come le donne come il detersivo change come napoleone napoleone si sta napoleone per divertimento no negli ultimi suoi anni ricordiamo l'america l'ha scoperta negli anni 90 certo napoleone l'ha scoperta napoleone che ha soprattutto poi di fatti napoleone lui si divertiva a stare a 90 perché diceva che prendeva aria in casa prendeva aria in casa e te devi vendicarti change potevi vendicarti sull'netta tantissimo scusate non ho niente cosa mi vendi ah 27 card non c'ho niente però c'è un bel change qui se volete ah vedi change anch'io che palle i gialli non solo loro in verità no non change però infatti l'america prende il nome da napoleone appunto che si chiama napoleone change ah vedi eh change ah eh avete rotto non sei solo tu che puoi changeare bravo Thomas invece si bravo tanto io mi faccio un pisolino mi svegliate troppo che palle oh può far mai niente tanto è Tomascheretto che poi non l'ha scoperta tutta ma a buona parte si perché tutta era troppo 6 mesi fa 6 mesi grazie 6 mesi fa cacare era meglio 5 mesi ma che cazzo dici era 5 mesi prima a me desi 6 mesi invece suona meglio non lo so change come sillabe forse ci sta meglio e che palle ok corvo ahia eh così devo ucciderli prima o poi no poi c'è stato americo vespuci cos'è successo americo vespuci era già in america e ha detto ma questi che vogliono e ha defecato sul terreno per appropriarsi e lui ha preso parte infatti non ho mai capito sta roba c'è la scoperta cristoforo colomo ma lui si dice l'abbia vista prima americo vespuci ma infatti c'è che cazzo no la vista da lontana ha detto coglione guarda che questa questa non è l'Asia questa è l'america brutti imbecini quindi in realtà non ha scoperto americo vespuci infatti si chiama america non vedi le stelle le strisce gli han detto infatti per favore si chiama america ma cosa ho detto infatti non vedi che come se non fosse vero non vedi che ci sono americani mica gli indiani siccome qua avevamo appena detto che la vasca aperta a napoleone e napoleone ha soltanto infatti napoleone è stato grandissimo in quella situazione e si lo è stato tocca a me e corvo col fucile lui è la prima 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 ma questo è l'america invece non lo ha capito un cazzo volevo gucciare ma assessuare napoleone colombo che ha detto ma siamo arrivati in india perché non hanno il terzo occhio questi ma così marco poi è arrivato anche cesare tra l'altro quella volta l'imoro cesare era buonamici buonamici esatto cesare come faceva il cognome cesare cremonini ma chi ma giulio a giulio erano non erano ma che cazzo ho sbagliato tutto ho sbagliato non ci ho pensato all'inizio perché ho detto vabbè sta scherzando ormai stiamo scherzando tutti quello è il cognome di cesare non mi era arrivato subito aspetta che c'è ride in casa un'ottoneuro e cinquanta ridagli soldi per favore volevo condividere con voi il mio superamento della prima prova scritta del corso adesso del concorso scus adesso si vuole verso la prova paradig paradig bravo mi ha portato fortuna vedi cazzo che è cesare giulio ma no cesare buonamici l'abbiamo detto dovete cingiare gli eza perché magari no e non mi ricordavo che cesare il cognome per quello mi è venuto il vuoto di memoria e poi c'era Alessandro Magno che però Magno non era il cognome e vince lo stesso ma change in change è proprio la base di questo gioco in change è proprio la vittoria di massa dammi più 4 l'hai noto dammi più 4 che io ti pulisco il sedere intanto io non ti ho dato più 4 che pulisco il sedere ah mi ha dato una stellina bravo quanto quanto esperienza sono a livello 31 perché sono a livello 9 e poi cesare era un titolo ma non era il cognome ma magari era un nome d'arte come la bertè vici che funziona così tiene i noti cesare augusto ah com'era c'era augusto volendo tieni dietro quindi cesare scusa quindi no cesare augusto infatti augusto era e no no era gaio giulio cesare ottaviano augusto ma poi che devi chiamarlo gaio magari era eterosessualissimo allora cesare non era scusatista provai un più due lui se la faceva con cleopatra altro che gaio quelli il bigulin con le non va bene corvo che succede ma ci alleiamo contro i studio disgraziati corvo che c'hai provato allora guarda senti che disgraziati eh grazie il cesare augusto era il figliastro per cazzo guardate quanti casini facevano niente marco è che dobbiamo fare tocca a me infestiamo la gamegrik c'era anche pipino il breve i tempi grazie e not tieni liezzar e che palla aggia tanto lo so chi vince con la nera liezzar ti ho provato e invece non hai i rossi e no a cesare era omosessuale quindi era gaio per davvero scusa è la cosa di cleopatra ma cesare era bisessuale no magari fotteva per per affari per politica per affari è un casino però cioè nel senso Bruno vabbè pepino albrego un bel po' dopo però era sempre era in altezza quanto cazzo è durato l'imperio romano l'imperio l'imperio di imperio di saravano erza erza grazie grazie verza ricordiamo che la famosa legge della L è nata con Antonio l'amica cesare quello forse solo su e comunque la possibilità non era mai vista male all'interno no era normale dopo che è diventata un peccato e adesso si fa fatica a capirla a digerire storia pensa una volta erano tutti froci e adesso è un problema non si può vieni è insultativo gli ezzar vai vieni ti vendicherò ti vendicherò pesco perché non voglio essere subito malotto con ai no ti merio gli imperi allora fammi fammi essere cattivo appena possibile con ai no appena del momento facciamo così dai in realtà sto parlando io di storie quando in storia ho sempre avuto due puoi sfidarmi puoi provarci non ci sarà mai andiamo a vedere grazie da voi grazie mille e benvenuto vedi colpo adesso tocca agli ezzar mi raccomando tocca agli ezzar la bastonata bravo 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 ahia che è male però bravo fabrik così ti voglio non ce l'ha dai dai sfidalo un po' vedi l'attimo secondo me ce l'ha guarda ti ha chiamato anche col mio nome perché mai tempo sparting voi niente amici andiamo a bad skeleton grazie 5 come il mio anno al bar lo schifoso come il bar lo schifoso eh si sono i peggiori bar di caracas e il rumbo cosa dice la desi cosa fa un anno al giro di taglio si fa tutte le tappe bravo allora slash eh li hai proprio mutati guarda che dispiacere che dispiacere che brividini che mi son vanno mamma mia sto digrignando i denti tutto ho la spina dorsale con la pelle d'oca il sedere sudatino che mi cola grazie ezzar ma devo pescare questo però scassa un maroni qua davvero ho rotto il cazzo ezzar e niente io faccio vincere il mio amico fabri ma grazie grazie amico marco scusa eh questo è davvero farlo vincere il mio amico marco questo è davvero farlo vincere fabri 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 ma noi noi giochiamo due contro due che cazzo non dire ma siamo lo siamo è guerra al tempo l'omosessualità era normale solo se attiva i passivi solitamente erano adolescenti o schiavi ti capito ah era accettato se lo ponevi quante cose non va bene no eri un figlio in buce lo ricevevi è proprio così dai lizzar ah ma questo qui lo prende io lo do vado mamma mia vedrai come si rigira la frittata dai lizzar allora ah un bel quarto io ti metto l'uno come il mio pene scossa va bene va bene bene cosa fanno due carameli come due carameli si scartano io non le leggo più eh vertian desi desi e vertian fate caccare al mazzo eh desi facciamo 10 minuti ma poverina ma dai va bene marco partiamo vai vai tanto lo so che mi si rivolterà contro un minuto ha fatto lizzar io ti ti vendico invochi ti invoco ti vendico lizzar fabri fagli vedere che waller era tanta che ci abbiamo eh 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 merda lizzar ce l'hai vero lizzar che scudo ooooh bitch ma dai ma bitch tutta colpa del tuo amico marco marco è tutta colpa no è tutta colpa del sedere di yezzar che è stato sfondato più e più volte nella sua vita a sto punto mi vado a pensare grazie grazie l'eria l'eria ti odia l'eria ti odia grazie mi dispiace che mi odia purtroppo i nostri tuoi qua yezzar e nikki minaggio ufficiale yezzar nikki minaggio sarà il suo nuovo soprannome perché marco è il tuo momento per vendicare ma che cosa c'ho c'ho 27 card su tutti i colori e scritte cose no yezzar eh lui ora vince no e invece change e invece vincerò io questa partita lo sapete? si marco fatti farò vince no non è vero non ci riuscirò mai no non ci riuscirò mai a prezzo a prezzo no dai no piuttosto mi metto delle cose in mezzo alle unghie guarda piuttosto che senti che male che male change dai fammi changeare non dirle neanche per scherzo ste cose vabbè changea lui ma tanto io so tutti i colori della terra quindi tutti i colori dell'alfabeto c'è anche l'arangione grande rosso a quanto pare perchè quello non ce l'avevi prima no ce l'avevo come no happy birthday to you happy birthday to you ma tu pensi che io changeo perchè non ho il colore sgragne sgragne grazie sei accivertato la cip no hai pescato prima per quello ma quando non è possibile lo dico io stai proprio caccare Desi ah adesso invece non ce l'ho più però change grande bella zio bella zio fantastic oh my god oh my god mi ha fatto un regalo e mi ha detto arriverà tardissimo quindi io adesso guarda non me lo do dire io non posso vivere esatto quindi è un non è un regalo è un dispetto questo grazie quando arriva magari è bellissimo però per adesso è un dispetto di azzaro è il culo grosso comunque io lo dico ma grosso grosso aia marco ma si ma tanto uno in più due in più arriverà il giorno simone arriverà il giorno nell'ovulo però nell'ovulo sicuramente dentro l'ovulo non c'è di azzaro mi spiace dai marco ce l'ha anche questa canta con me e benvenuti a sti fraccioni belli grossi e capoccioni e non gli dimono e noi gli favo ci ha messo l'acqua e non te pagavo dentro l'anno dentro l'anno ma si ma tanto c'hanno tutte le carte della terra sti due qua non è che possiamo fare a me sono numeri c'ho un sacco di carte solo numeri dai rigioca pierino grazie marco se ci volete contattare guarda che culo c'hanno sti due qua qualcosa che non sia una cantata scriveteci su facebook esatto e posso fare un appello? vai appello perché a dubito si ricorda per cortesia basta mandarci foto del ventilatore di esprit basta porca troia e anche dei negozi della catena di negozi ci siamo rotti il cazzo pensa se mi chiamavo terranova porca puttana porca puttana Bruno pensa se Mark ti chiamavi McDonald ogni volta che uno andava a mangiare al McDonald ti mandava la foto eh rischio Fabri ah è ricerciato hai rischiato potere del cielo magari hai fatto bene va bene quando uno a culo che devi fare veramente stiamo giocando con Nicky Minaj e l'altra l'evoluzione e che dobbiamo fare non ce l'ha guarda le cose venuti a sti grazie non fa nulla quindi Davide ti fa per me Marco ma perché Davide purtroppo è un brutto scemo che dobbiamo fare devi change eh ma rischio eh tutto potere del change rischio qua ma ciao che bristino eh ma fatto un giallo lasciato lui il colore no change che pal e niente mi beccò anche nell'esplosione oh yeah oh finalmente gira un po' a mio favore qua la situazione non dovevi mettere e io l'ho preparata per Mark perché pensavo per scasse per farvi cambiare lo so no alle monze cos'è altro alle monti comunque la terza carta ma guarda non è possibile guarda non è possibile ho preso le due cose più alte no 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 io veramente guarda mi scortico le balle mi scortico comunque grazie alle monti di cimese ah grazie ma sì ma sì ma sì ti sfido frega niente dato ormai c'ho più niente cosa c'è il record no ancora 21 il record dai oh dai corvo vai liezzaro in turno potrei far battere il record ma infatti giochiamo due contro due stiamo giocando è solo con la differenza che io corvo abbia un culo così piccolino voglio solamente no ehi liezzaro no stupidino è il solito bug di merda che non lo fa devi prima cliccare più me cange l'ha fatto cange di nuovo e grava bene vai liezzaro nei negozi morelli a sassavende oh vedi distribuiamo un po' le carte qua bene va bene mi ricorderò Marco ma che me ne frega che ti ricordi guarda come sto messo ricordati che ha portato la salita la salita la volpiana è un meccanismo di costruzione non la solleggia non la solleggia è un meccanismo di costruzione la salita la volpiana non ho fatto geometra io basta del gioco del calcio che prevede l'arretramento di un centrocampista sulle linee dei difensori e il contemporaneo avanzamento dei terzini per facilitare l'uscita della palla che palle verde non c'ho voglia che cazzo scrivi poi c'è Valeria poi c'è Valeria Silvia Burroni va tutto ciao ragazzoli belli vi lancio questi due euri per la compagnia che mi state facendo mentre ceno grazie sono molto guarda grazie buona cena è bello che ci guardate mentre mangiate sì è bellino perché una volta una volta si guardavasse la banda adesso si guardavano le puttane io ricendo se non ce l'ho se striscia la notizia si guarda striscia la tira e molla molla e tira adesso si guarda i termosifoni mi fa molto piacere anche a me siete proprio belli comunque anche a me devo dire amici passatemi la vostra forza cinch del tiro cinch com'è quanto acuto cinch giro brava adesso vince guarda quando uno c'ha un sedere grossissimo ma c'è la situazione io non so come è fatta ad essere ancora seduti su una sedia non è possibile non averla sfondata e adesso devo fare così guarda guarda che sta a vedere che culo il corvo sta a vedere alle flame sono le otto e mezzo se ceni alle nove come in otto sei uno stronto ma allora ma io ce ne ho piccato io ce ne ho le nove perché perché voi siete stronti alle otto alle nove sono in live esatto io alle nove poi inizio a preparare io mangio alle sette e mezzo dai tutti Bruno quanti Bruno eh tu parli io ostia quasi poker di uno eccolo poker e però adesso niente Bruno ma guarda che cacchio c'ha la due cat e il più due è incredibile questo sedere è incredibile ULALA ULALA ULALALA dammi le pere ah dentro ma che cosa cambia dai adesso tutti i terroni non lo fare Fabri non lo fare Fabri non lo fare in Sicilia si mangia alle undici di sera terroni terroni eh no spescato eh lo so però eh ho capito cosa da dire vai notte eh mangiando terra no devi speschiare così Fabri teniamo duro mangiate alle 8 teniamo botta marco 10 e mezza 8 e mezza non alle 10 ok bravi ti voglio Nugo eh no niente yes li Edward non neanche lui dai dai bravo Schuwe tu sei un vero terrone bravo beh non si può fare scusa eh no credo che sia no ma si usciamo dai dai partita contro 2 ma mi si era bloccata tantissimo la canta invitammi crea è mezz'ora che leggevo Pierpollo aspetta due notte prima sei entrato per terzo no guarda Mary fai corruzione quindi probabilmente sei in ordine Roscia vero che ti fii per me tu sono il pappagallo è vita franchi che dona due euro e dice buonasera termoginocchi vi dono sperando nella vostra benedizione per l'esame di domani vi si vuole tanto tanto bene grazie mille vita franchi buona fortuna buona fortuna però in bocca alla balena perchè nel culo non so hai not accetta proviamo a vedere se con te va abbastare il microfono aspetta ancora no io a me non mi ha invitato adesso si no perchè sto vedendo se l'ordine è aspetta qualcosa state zitta è buona tu io invece posso parlare ma anch'io in verità vediamo se l'ha trovato ok yes perfetto yes dai dai ah ma io vedo le tue carte eh si è vero mamma mia che bello che bello che bello che fico sei messo comunque meglio di me no beh è possibile più o meno tu e niente allora faccio questo io subito bravissimo umo combo eh umo combo Fabri va bene va bene fallo fallo faccio fallo fallo aspetta si si poi mi arrivano tutte le cose addosso dopo vai vai ma ancora vai vendichiamoci per prima che mezz'ora che domini perché mi sei uomo combo eh ho finito però io adesso l'ho fatta devo pescare vabbè iniziamo iniziamo uomo combo vabbè finchè non tutto così esatto finchè non si pesca va bene dai Giazzar troppo gentile e rinominate le clip e niente quando fate le clip rinominatele cazzo come cos'era questa che numeri c'hai stavo ricalcando le parole di George ah boh questo è un cazzo grazie George non cambia 3 come i buchi del bidet ahhh ma non vuoi avvi i buchi del sedere ciccio bombo cannoniere ma poi li butto cioè l'uno come la formula temporanea ahhh ce l'ho anch'io bravissimo hai notte eh lo so change va va bene e no change che cacchio ho cingato signor durini no dai non vuoi provare siete veramente dei mali ali dei mali ali dei mali ali madonna che Marco va a vincere dai dai fabbriche qua che Marco va a vincere ci riprendiamo forse eeeh toh ok ok ahhh io guarda come il mio caso eh no merda è vero eeeh eh vabbè hehehehe non cambiava niente non cambiava nulla va bene va bene dai hehehe eh 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 ehaimer noi siamo team mali ali A parte che lor hanno iniziato con la wombo combo rotta non va leaning ogni tanto qualcuno è romanzato cavale 10 mesi tutti i 10 mesi o 12 metri un bel cegno il qua grazie milla bravissimi che vogliamo fare noi neri non eri che dobbiamo schiavizzare delle persone nel senso i lecate un po mi sono fatto la cacca addosso ma il team maleale maleale vado vado ciao dabos che bel nickname mi piacerebbe approfittare del tuo corpo per poterti sventrare e vabbè bene bene ma io questa ce l'avevo e quindi si no e niente e quindi no beh 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 chiaro e faccio un discorso balle scientifico pesco che curioso caso di sembra una buona idea è curioso caso dipende perché ora viene così ah ma adesso liezzar niente eh no però non ce l'avevi prima non è mai pescato magari l'ho pescato ah ma che schifo che mi fai eh questo però devo fare così e niente eee aspetta fammi vedere facciamo così bellissimo bravo liezzar vedi 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 vai barco proprio mua vai corpo è tutta tua è che cazzo vedi perché i tuoi culoni questo bravo marco è perché i culoni e ti vuoi change che non lo vuoi all'inizio liezzar è 20 minuti che mi rompete le balle vabbè io posso avere un attimo di culo aspetta un attimo liezzar tre come il gesti che fa il preside eh 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 non so adesso non posso fare il render di professione non lo potrei tranquillo eh questa è è terra da poser è terra da poser è Bruno Bruno chi è? Michele 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 Ironscreen Ciclor e dai ciao corne ciao corne buonasera vedi che combo e torna ma con salute che cacchio uno a uno uno a uno palla al centro mamma mia palla al cepu eh vedi 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 ma adesso eh adesso si sa non c'è uno senza due e fin qua siamo tutti d'accordo a prescindere dalle parti ma tu hai fatto ma tu hai fatto ma tu hai fatto mamma mia è carino sì ok 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 come gira il gioco ok hai nota tocca ai nota dai ah tocca a me mmm allora adesso facciamo una cosa ci vuoi toccare ai nota va vero dai va bene va bene e allora niente spiace ah un bel più due beh beh dai oh oh che notizia oh che casualità che casualità eh sentivo twercare dalla mia sinistra infatti sentivo twercare adesso capisco devo oh bene bene un bel change qua ci sta secondo me ti sa secondo me sono d'accordo con te credi che Ah, 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 vai Corvo, ma come sei messo, ma vado, ma... Io non dico niente, però... Io changerei... Quanto c'è Andy Quacquato, che donnava un'ora e cinquanta... Bellissimo Andy Quacquato, eeeh... Ma era uscito l'altro nome, comunque sono tornato e non mi salutate... Ah, ecco Chiere, Michele Irons, che... Ma io faccio così, ho sbagliato, ho sbagliato carta, vabbè... Ma non importa, non fanno... Grazie, Andy Quacquato, bentornato Andy Quacquato, Andy Quacquato, bentornato... Andy Quacquato, bentornato Andy Quacquato, bentornato Andy Quacquato Andy Quacquato, bentornato Andy Quacquato Andy Quacquato No, potevi sfidarlo... Bravo, bentornato Andy Quacquato Andy Quacquato Andy Quacquato Andy Quacquato Andy Quacquato Eh no, devi avere la carta del colore... Ah, del colore... Che fa schifo... Eh niente, va a vincere con il mio colore... Eh niente... No, ho sbagliato perché in realtà... Invece... Ah, era una carta... Poteva buttarla... Poteva vincere tranquillamente, però vabbè, non importa... Va bene così, va bene così... Faber... Faber Phoenix... Grazie Faber Phoenix... Grazie Faber Phoenix... Ok... Quintitoni... Contro team Malealoni... Maleale... 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 Bella zia... Eh qua è dura... Changea, changea... È bene... Bella frate... Faccio after... Vai bene, vai bene... Vai... Bella frate... Faccio after... C'ho provato Faber... Eh hai fatto bene... Hai fatto benissimo... Ma... Contro i culoni c'è poco da fare... C'è poco da fare... Eh... Contro i culoni... Però noi lotteremo con i denti e con i culi... Beh... Con i culoni... Con i culoni oserei dire... Con i culoni... Ma Pathfinder torna il 9... Cacchi... No, il 9 e il 10... Era il 9 o il 10... Cacchio... Scusate... 10... Il cine... Ah... Eh... Però vale il colore... Grazie... Il cine... Per la resub... Eh... Il colore vale lo stesso... E questo è un cheat quindi... No... Pizzasso like... Cos'è? È quello del tempo... Ah no... È giocare di squadra... Pi... Mamma mia... Eh... Che culo però... Che culo... Ma non ci sono i poteri... Nero... Si... Ah si... 20 carte... Ah va bene... T'ho la medaglia sbloccata recluta... Grazie Cina comunque... Ma... Gina ti fi i culoni? Eh... Ma... Gina... Gina mi hai tradito così violentemente... Cos'è da fare? Eh... Siamo chiaramente... Ancora andico a 4... Va bene... Iniziamo con l'handicap... Va bene... Ho 11 anni... Scusa... E mi spiace... Ben tornato andico a 4... Ben tornato... Ben tornato... Andico a 4... Ben tornato... Ah... No... Così funziona... Dove... Puoi iniziare io... Liezzar... È il team culo e il team cheat... Così funziona... Ma noi siamo i team Malia... Sì funziona... Ah... Vai Marco... Tocca a te... Bravo Kimbrut... Brava Bea... Brava Bea... Vai... E niente... Ma tanto ce l'avrà sicuramente... Perché lo finiranno... Per una volta... Bravo Bardachank... Allora... Facciamo in questa maniera adesso... Una maniera tattica nucleare... Come i piguini... Esatto... Mi dispiace... Ero io che avevo un singhiozzo strano... Vai... Diezzor... Ah... La corsa... No... No... Ah no... La pesca... Vabbè... Ma tanto... Se tanto mi da tanto... Anche cose che ti rimane... Marca puttana... Ma inculato... Ah... Giustamente... Il culone... Inculato... Vai... Ora tocca a te... Inculato... Grazie... Ah... Che singhiozzo... Marborn... Se volete vado via... Cazzo... Grazie Marborn... E sono... Cinque... Change... Non è un errore... No Gina basta... Devo ruttare fortissimo... Mi muto... Basta... Basta... Eh... Signor Gina... Guarda che non sa neanche cosa... La tua storia... Inotto... E beh... Non c'era... Ma che ne sa... Io anche se non c'ero... Mi informavo sui miei amici... E beh... In 2000... Guarda te... Fa niente Eliezer... Fa niente... Va bene... Ci servono le carte... Niente... Non mi è passato il singhiozzo... Team Maleali... Team Maleali... C'è il tastino... Su... Bravo Ale... E quindi? Pensa alla squadra... Bruno... Io lo farei... Marco... E che faccio? Che posso fare? Fallo, fallo... Change! Ah... L'ha fatto... Ma basta... Scusami... Vedi... Ci servono le carte... Ciao John... Ah sì... Sì... Adesso... 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 Faccio così... E via... Guardate... 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 Change! Ma guardate... Non credi... No no no... Questo è il team culone... Per eccellenza... Comunque... E chi vince... Questo è il team culone... Questo è il team culone... Per davvero... Io... Voglio che un comitato... Gli analizzi gli orefizi... Perché non è possibile... Che ha messo agli atti... Non è cheat... Ma la prossima partita... La faccio con una mano nei testicoli... No... Esatto... Non è possibile... A parte che Moro... Sta facendo dei suoni... Che... Io penso che... Se mi metto di impegno... Non è possibile fare... Nella mia stanza... Che sono i miei... Se non è possibile... No... Lo sto morendo... Al prossimo singhiozzo... Parte il beatbox... Io ve lo dico... No... Questo qui è stato silenzioso... Non l'avete sentito... Adesso mi tranquillito... E mi passa... Ma com'è che... Ci donne Mark... Ha vinto l'oro... Ma questo qua... Si sta guardando... Siamo troppo forti... Troppo forti... Troppo... Tengo respiro... La partita delle... Devi tenere il respiro... Per sette minuti... Così ti passa... Di come faccio... Muoio... Per quello che mi perse... Ahia... Questo fa male... Eh... Nooo... Tutte rosse... Tutte rosse... Tutte rosse... Ma non mi spaventate mica... Per cui... Anche un... Un... Salta... Salta... Vistina... Tu sei team Malayalim... Dai... Infatti tocca a lui... Tocca a te... Ok... Ora farei il salto giro... Ok... Ancora due rosse... Quattro rosse... Ma... Qualcuno di scena... Quattro rosse... No... Non ce l'ho fatto... A trattenervi... Non è possibile... Dai... Dai... non è possibile... È incredibile... Questa cosa qui... Beh allora... Io direi change... No... Vabbè dai, ricengiamo però Dai Ma mi sta passando però Fallo, fallo Fallo Eliezer Fallo Eliezer Ma non... ma cosa? Perché Eliezer? Perché Eliezer? Perché Eliezer? E niente, io pesco E va, andiamo a vincere comunque Perché non volevo vincere con la guerra E andiamo a vincere comunque Ma giusto Noi abbiamo la play of the game però Sì, quello c'era Io non c'è riuscito No, non era Cioè noi se ci potevamo trattenere tranquillamente Non era possibile Non era possibile Non era tollerabile Parca miseria Dai, quattro rosse Quattro rosse, incredibile Mamma mia Dicono Moro, trattieni il respiro per quanto riesci a me così passa Ma Moro non supera il secondo E infatti, cioè già quando Normalmente mi sono soppocato Bravo Marco Vai Fabri L'acqua bea L'acqua bea Vabbè Questo me lo becco Ci serve, ci serve, ci servono Però che non uccide fuori Ficca in otto Più o me Ah, comunque sarebbero arrivate a te Quindi Sarebbe per l'altra Quindi è meglio così Fatema Vabbè, quando poi volete far giocare anche noi Ora ora Dai Se spazio magari passa Hai capito Ma mi è passato adesso in realtà Quale vuoi? Questa Change Che cacchio Va bene Tieni Ah, grazie No, io non gioco Tre, come la mamma di Trezeghe Mi pare No? Sì, si chiamava Tre Sì Tre e Zeghe di cognome Esatto Non era Tre come i piedi pari Ah, è vero Era Tre come i piedi dispori No, Tre come i piedi pari era Io mi ricordo Ah Ah, grazie bea Cazzo È vero, era Tre come i piedi pari Eeeh Eeeh Un tanto Eh, qua abbiamo avuto sfiga con le carte Eh, bastato Ah, niente Se vuoi, provo cosa? Il cambio? Ciao, sassavende, buona cena Abbiamo avuto sfiga con le carte Eeeh E niente Prova Se vuoi, provo cosa? Il cambio? No, ecco Era Tre come i piedi pie No, però non male Eh, eh Eh, vabbè, Marco Eh, vabbè, dai Qua Non si può terra Bella di padella Vedete, noi vinciamo Era Tre come i piedi pie Ma cosa? A memoria, Alex Aldo Team Maliali Team Maliali Intanto siamo tipo 4 a 2 per noi Quindi Questo è perché avete il culo, giustamente E' giusto che lo verificare Perché io chiedo il ricontencio Anniatomicamente anche tu hai il culo Ma sì, ma non lo uso di certo come lo usi tu Ah, di sì Tu che senso Eh, è che lui riceve molta fortuna all'interno Ma in che senso Io lo hai limato Ma in che senso Va bene, Abbie Come si riceve questa fortuna? Abbie, tu devi stare dalla mia parte Brava, Abbie Brava Eh, quindi? Abbi me la Buono Anche Ale E non mi dava l'opportunità di giocare Quindi Ale, tu sei Team Maliali Ale Dai, Maliali Maliali Sono Maliali Tutti Maliali Team Maliali Viva, ma tutti quanti vogliono essere Maliali In Maliali Tutti, ogni persona nel mondo vuole essere Maliali Ehm Siamo tutti un po' Maliali Ah sì Ma quanta, ce l'ho per tutti, guarda Te la sicuro Guarda Ne ha per tutti i gusti Di Marco Allora, Aliezzar, però sono educato io Toccava a te Perdonami Va bene Eh, se toccava a te Due mesi, grazie mille Grazie mille Grazie mille Bruno? Come grazie mille? Ehm, niente Eh, mi sa che è andata Marco È vero che dobbiamo fare Eh no Eh no, è un'andata E io pesco perché Eh c'è Le carte particolari che hai con Inja, vero? Sì Sì, sì, sì Complimenti Mettono allegria Vero? Il pirata Il pirata Bruno? Bravo Ah Bravo E quindi facciamo così, dai Facciamo così Poi Così almeno non fa uno Il notturno Ehm Per forza Di cosa Eh, via Non avevo molta scelta Avevo solo carte gialle Ma veramente solo carte gialle Solo carte gialle Bussano, chi sarà mai Guarda che belli Grazie mille Big Bjorn Grazie Change Change Bravissimo Ehm Va bene, va bene Va bene Ace Kingdom Tre mesi Grazie mille Ace Hai capito? Che bel nome Marco Facciamo così allora Se vuoi fare così Molto bene Molto bene Gli Ezra 4 come? 4 Bravissimo Sei poco fantasioso Vedi perché dovete votare Di male a ragione Mi sono trovato d'accordo con lui comunque Vai Corvo C'è in geramo C'è in gerai Dai Corvo Vai Corvo Vai Fabri E me la prendendo il culo io adesso Tanto Eh no 8 come il cavallo Tutto rotto Completamente E di nuovo Tanto mi guardo Un video di Mariuszio Che cammina gelante Tengo la cavalla che cammina gelante Tengo la cavalla che cammina gelante Che cammina Che cammina col culo Va bene Va bene Si Cammina col culo Non è colpa sua D'altronde D'altronde Ehm Sto iniziando a guardare ora C'è carte di viazza Parco Va bene Grazie Stiamo facendo i fatti miei Bruno Non lo so Che vogliamo fare Chi è? Grazie a lei Vai di Non lo so 11 mesi Grazie a lei Io sarei andato di giallo Vedi Che cazzo Grazie a lei Cosa faccio? Imani così Imani fedele Come Che cazzo Non hanno il verde Liezar Va bene Va bene Buone anche lui Va bene Va bene Che palle Bruno Ho sbagliato carta però Va bene Va bene Quindi ha Un altro Ah Niente Cosa vuol dire Quindi ha un altro rosso In base a quali calcoli Questo è un altro rosso Perché hai detto Tu sbagliato carta E cosa c'entra? Perché potevi giocare anche l'altra Quindi vuol dire che avevi Trovi rossi No cosa vuol dire? C'era tutte e due No era perché Io ho detto sbagliato carta Perché vuole mettere lo stesso numero di corvo Non ho presato La mettere il cinque Come me Eh va bene Ma perché vuol dire Che avevi tutte e due rosse Era l'unica cosa che potevi giocare Non ho capito comunque Il nesso Era logico Che se tu potessi giocare Cioè se tu avessi Giocare Vabbè No vabbè Poteva essere lo stesso numero Vabbè È molto più probabile Che fosse lo stesso colore Vabbè Era lo stesso percentuale In realtà Non lo sai Non hai la stessa percentuale Del numero E dal colore Questo Lo dici tu Perché sei team culone Io che sono a team Maliali So perfettamente Marco ha fatto geometra Cioè saprò Che non lo saprò Change Bravo E che cazzo Vai Disse Disse dall'alto dei cieli Io due Bene Stavo giusto per chiederli Che Una che me l'hai dati Guarda Vedi E mo cosa vedi Per dire no Per dire Un po' po' che carte Quindi Ma li avete finiti Che strano Dici che li abbiamo finiti Ma i fabri Faccelo vedere Faccelo toccare Un bel tre Tre come le gambe Di più di pai Di più di pai Ma va Indominate voi Di qual è Sto parlando Come terza gamba Ma perché lo fa Una coglione Ma vedi Io lo sapevo E ora vado Al bagno A festa Vado Vado così Ah vedi Perché Eh perché Perché no Perché no Non ho capito Trovo Lascia fare Lasciami fare Vedi Molto bene Molto bene Guarda Facciamo così Ora fai quello Esatto Io faccio così Io faccio così Esatto E faccio questo E faccio così Ah merda Facciamo così Brutta cosa No Perché lui aveva messo il rosso Ah vero Mamma mia Che genio Ma comunque Ma comunque Ma comunque Ah comunque Quattro Che le prendo Ma Eh sì Ah che si parla Bene va bene Cos'è Ah più carte Tanto sicuro Me becco io Otto Marco Se ne becca Ah Ah Ahia Beh Io sono il magico mondo Magic English Magic Kings Ma vabbè Not today E faccio così Buono 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 E sarebbe da Che bella sta musichetta Sarebbe da fare questo Liedla Eh sì Eh Faccio così No Ah sì Che rosso Eh Merda Eh Questo però Ci suicida Molto probabile Quindi andiamo così Ah Io faccio uno zero Che sesso Che sesso E niente E niente Guarda Guarda Vada lì per Mano alla vittoria Fabri sei stato Ah Un piccolo Una piccola statua d'oro 10 volte E' già volto 4 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 Eh sì Crescita di livello No no Moro mica 3 No Stai già dormendo Mamma mia Maliali 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 Dai vai Marco Che palle Corvo Tutti tu ce li hai? Sì Vai Gliezar Vai Ah che male al culo Che cacchio E ti dirò una cosa in più Marco Non si attacca Il mio amico Gliezar Eh ma tanto a me Non me ne fotte Hai attaccato tu il topi con Gliezar Dai vai Gliezar però Perché mi spiace Noi siamo sportivi Corlo Fagli vedere Noi siamo sportivi Siamo sportivi Eh Vai Coro Stai vedendo le mie carte Sto vedendo le tue carte Guarda Io non lo farò Change Tu le stai vedendo invece le bie Porca troia E io adesso cosa faccio Corvo a tutte blu Probabile Sì Credo che il marco abbia un colore Per le mie carte Dai Più 4 Come vibra il mio pisello qui Ah sì? Eh perché mi sono emozionato Adesso però facciamo così Ah no è tutte nere allora Facciamo così Bene quindi facciamo così Anche veramente a tutti i colori Sì E' il corpo O magari no Che ne sai Caro Simone Ok quindi ora a rosso giusto? Sì Quindi facciamo così Come è possibile? Ah Va bene Faccio così Perciò il giallo veramente Va bene Ah vabbè guarda che stronzi E che cacchio Che stronzi Che culo di merda E che stronzi E tanto Se tanto mi da tanto No aspetta forse No Può darsi eh Può darsi Può darsi Abbiamo avuto sfiga Se pescavo il più duro Hei 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 Team maleali Hei 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 Team maleali E io avevo tutte le carte più brutte Della terra Ero in quell'arcobaleno E invece lui mi sistemava Marca miseria Siamo pari mi sa adesso No credo che siamo una in più No dovremmo essere comunque una in più Eeeh Dai Va bene No vado via Vado via Non è possibile Ma dai Vado via Va bene E quindi cosa Questa la vincete voi Sì sì Per favore Ti morchi Ti morchi Ti morchi Ma le ali Ma le ali Il team dei maleali E che cacchio No vabbè Non è possibile ragazzi Non è possibile Guarda non è possibile Dai Mi ha dato anche lo stesso colore Vai Marco Ci riprovo Glieder E può Quindi E niente dai Corvo Mannaggia E niente dai Glieder E che palle sta roba Non potevo sapere Glieder Fammi vedere Non so proprio cosa tirare Mmm Cosa possiamo giocare Dai Ah che cartello Curiosa carta E niente Va bene Il rosso ce l'ha solo Marco quindi Tutta la mano Guarda ti assicuro Che può darsi nel mazzo C'ho tutto rosso Io te lo posso assicurare Eh devo Marco però Vadi vadi Change Tieni Tieni Che tanto pesca lui Eh cosa potevo pescare Se non il rosso Glielo dico tanto ormai Mi se la frega Ah Riccegio Ah bene Perché Ah Ah È vero Però gli aiuti se fai qualcosa C'è Effettivamente può darsi gli aiutati qui Beh vedi così va bene Eh no Eh sì Ora Ora io faccio questo Eh Eh io Faccio questo Che devo fare Bussa no Bussa chi sarà Chi è Chi è Bilbo È Bilbo Ah Ciao Bilbo Era da un po' che non ci sentivo È un po' che non lo sentivo Bilbo Come stai bello Come stai Andiamo così Il Bilbo Il Bilbo Vai vai Ah che poca me Che palle Che culo Non posso aiutarti Liezar Non sto pescando No Non sto pescando No Vai di quello Mi stanno telefonando No Vai di quello Non posso Non lo fare Di quello No Che culo Che culo Di merda Oh Vai di quello Che cazzo Ah Invece Ma dove Quante ne prendi Nove Porca madre Niente Avevo perso Finalmente Intrassinisco a Milano Per cominciare l'università Ah Eh Bolzano è bello Bilbo Sono molto contento Per te Bilbo Change Ah vedi Ma quanti ne avete Oh E l'ho appena pescato E vabbè E quindi Fai 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 Ma sono vivendo il culo io Ma stia Esatto Eh Però sfido Perché ho sbagliato Vabbè Eh sì Che sfido Fido Sfido E infatti E tanto a me carta più carta meno Non mi cambia Eh ma a me cambia E infatti In negativo Non lo dire Con quella voce E niente Gli ezzard Eh vabbè Fagli Sì Ah vedi Bruno Eh cazzo Che vogliamo fare? E quindi Te lo sentiamo? No Dobbiamo fare Prova dai Mi ce ne frega tanto ormai Siamo anche per chiudere Che sfiga Gli ezzard Che fastidio Alex guarda Che pugno Che ti do Eh solo questo posso Dai Tra me quindi Vai Corvo Ah Che cacchio Bene Vai Gli ezzard Che palle Ma che vince Marco Invece Qua è incredibile la situazione Però eh Qua è insostenibile Questa cosa che sta succedendo Provo Ah Che niente Me le prendo Ma Pure qua Così bene Marco Non è possibile Amici Questa è Questa è stregoneria Eh pensavo Capite che le nostre vittorie valgono doppio Sì Veramente valgono doppio Veloce Ma ci Pensa Che colore Che potrei mai mettere Quale colore Non la fai scegliere Marco Ma io Non ti sfido Veramente c'ho il mal occhio E non mi sfidare Ma no Ma per te Dobbiamo chiudere Dai Facciamo così Così Dai dai Adelante Adelante Al massimo chiudiamo Ah che cazzo Dai Siamo pariti benissimo Sì proprio E mo Adesso E mo E che cazzo Vai Gli ezzard Bruno Ostia foglia Ehm 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 Cazzo Peccato Eh non è la mossa Cazzo Ehm Ehm Ok Bruno Bruna change È bravissimo Marco Ehm Pesco Sbrigate Eh ma E che dobbiamo fare Non si sbrigano Svegliamo ci sbrigano Ma che cazzo Brunato tutto Ehm Niente Questo posso Ehm Così No Non lo dovevi fare Non lo dovevi Niente amici È stata una partita Emozionante Chiediamo scusa al gatto Per il minutino rubato Grazie Sono alle donazioni Saber e Saber Per essere partecipati Buon appetito Bella ragazzi Chiediti 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 Chiediti